Ciao a tutti cari amici, buonasera e ben ritrovati con la nostra canalizzazione del pensiero. Allora, come potete vedere questa sera non ho messo nessun tipo di carta, perché estrarrò le carte insieme a voi, quindi andrò a mescolare il mazzo dei nostri bellissimi oracoli degli specchi. Io intanto vi invito a scegliere tra queste due varianti, fatelo ad istinto, mi raccomando, e io vado a preparare un po' le carte per la variante 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi andiamo ad aprire la stesa di nuovo per la variante 2. Allora, vediamo un attimino, basta, lo prendiamo che è uscita, 3, 4 e 5. Ok, allora, vi ricordo sempre che sono video interattivi, quindi mi raccomando, cercate di non forzare le cose se non sentite che risuona, perché siete tanti, sono tante le situazioni, quindi naturalmente non può sostituire un consulto privato e ci sono tante realtà, tante relazioni, tanti rapporti, tante persone con un carattere diverso. Quindi mi raccomando, lasciate andare se sentite che non risuona con voi. Io vi ricordo anche che sono video validi dal momento in cui vengono visti, quindi non hanno scadenza, se approdate nel canale tra 10-15 anni sono comunque sempre validi e vanno bene per tutti i tipi di copie, quindi donne che guardano per uomini, uomini che guardano per donne e copie arcobaleno. Allora, io penso siate riusciti a scegliere, partirei subito con la variante 1. Naturalmente, se non vi è bastato il tempo, basta che stoppiate e scegliate con tutta calma e tranquillità. Allora, metto qua l'ampollina rosa e andiamo subito ad aprire la stesa. Vediamo un po' che cosa ci dicono le carte oggi. Allora, diciamo che qui la situazione non è proprio rosea. Allora, per alcuni di voi questa persona se è impegnata, perché qua emerge la carta del diritto che è un po' simile alla giustizia, quindi potrebbe essere una persona che ha una relazione ufficiale. È un uomo che pensa ad un tradimento, a un comportamento sleale che sta avendo rispetto a questa situazione, cioè al rapporto ufficiale che ha. Quindi ci sta pensando molto, riflette, è un uomo che si sente in colpa per come si sta comportando. Si sente il dito puntato, quindi è un uomo che in qualche modo si è chiuso e si vergogna anche probabilmente di come si sta comportando o come si è comportato. Per alcuni di voi magari non ha fatto niente effettivamente questa persona, però magari ha qualche interesse. Se siete l'altra, probabilmente magari è fortemente attratto o vi pensa continuamente. Per alcuni invece effettivamente avete magari avuto una relazione, un rapporto sessuale, affettivo e questa persona si sente in colpa nei confronti della famiglia, si sente giudicato per un comportamento scorretto. Io vedo qui che qualcosa è andato distrutto. Allora, o c'è stato un litigio con voi, quindi con l'altra donna per esempio, o anche con la donna ufficiale, qui dovete cercare di capire chi siete delle due. Fatto sta che qui c'è stato un litigio, qualcosa si è rotto, si è proprio sgretolato e ci sono delle accuse rispetto a questa situazione. Allora, la prima variante potrebbe riguardare questa persona che è impegnata, che ha questi sensi di colpa riguardo a questo tradimento e ha deciso di interrompere e quindi l'amante in questo caso ha cominciato a insultarlo, ad accusarlo, di averla illuso e quant'altro. Se invece con voi non c'è stata nessuna rottura o vedete che questa persona non ha intenzione di rompere, probabilmente si tratta del rapporto ufficiale, quindi magari è uscito allo scoperto perché si sente in colpa, quindi magari ne ha parlato anche ed è scoppiato il putiferio perché qui sono proprio accuse rispetto a un comportamento sleale, scorretto. Per altri qui si potrebbe trattare di una separazione ufficiale proprio per il discorso di questo tradimento, quindi qualcuno è rimasto colpito alle spalle e questa persona è molto concentrato su quanto è accaduto, su quello che sta succedendo. Vediamo con gli oracoli del vorrei dirti che per la variante dell'ampolla rosa che cosa ci dicono. Sono geloso, ho le mani legate, ti ho tradita, cioè guardate, guardate che roba, mi hai deluso, qua sono uscite, voglio ricominciare con te e non sono felice. Qui attenzione perché naturalmente si potrebbe trattare anche di un vostro tradimento, di chi guarda il video, mi sento bloccato. Se voi avete tradito questa persona in qualche maniera, attenzione che come tradimento non si tratta solo di relazione, ma si tratta anche magari di aspettative non colmate o promesse non mantenute, una persona che in qualche modo si fidava e si è sentita pugnalata alle spalle. Quindi se voi avete avuto una relazione con questa persona e magari voleva ufficializzare in qualche modo e voi non avete voluto, questa persona si sente, si vergogna anche probabilmente, si sente colpita alle spalle, si vergogna di quanto è successo di aver creduto in una situazione. Quindi vedete come la stesa cambia anche in funzione della situazione vostra di partenza. Quindi qua vi dice, sono geloso, ho le mani legate, ti ho tradita. Quindi qui vale sia per la moglie che per l'amante, se dice che ha le mani legate effettivamente è una persona impegnata, però vedo che è geloso e non sono felice. Quindi questa persona non sa bene dov'è, a prescindere. Dice mi hai deluso? Qui probabilmente qualcuno di voi, se siete voi quella impegnata, questa persona è rimasta molto delusa da voi, ma potrebbe essere anche rimasto deluso da come avete reagito di fronte a un suo blocco, perché questa persona si sente molto chiusa, impedita nei movimenti, non riesce a fare nulla, però ha il desiderio di ricominciare con voi perché non sta bene. Quindi questo è un po', sia che siate la moglie che siate l'amante, dipende un attimo com'è la vostra situazione. Ripeto, se vedete che siete l'amante ma questa persona tende ad allontanarsi emotivamente, è chiaro che ha dei ripensamenti riguardanti il rapporto ufficiale. Se invece siete la moglie e vedete la stessa cosa, naturalmente si tratta dell'amante, quindi dovete un po' cercare di cucire in base alla vostra situazione. Andiamo a prendere un messaggio motivazionale per voi. Vi ricordo che questi messaggi servono a voi per capire dove dovete posare l'attenzione rispetto alle vostre difficoltà. Quindi se dovete guarire qualcosa, riequilibrare le energie perché è importante curare noi stessi perché se andiamo d'accordo, se stiamo bene con noi stessi, poi stiamo bene anche con gli altri, no? E ci arrivano le cose belle. La mia casa è un porto di pace. La mia casa è un mio riflesso. Mentre faccio pulizia nei miei cassetti mentali, trasformo anche la mia casa in un posto meraviglioso dove vivere. Quindi qui, se vi sentite in un'energia negativa in casa, non state bene, c'è disordine, c'è una situazione poco piacevole, e qui le carte vi invitano a ritrovare una situazione di benessere. In qualsiasi situazione siate, quindi proprio che sia in casa, magari siete ancora con i genitori o se vivete da sole, c'è il bisogno di riportare un equilibrio nella propria vita, nella propria casa. E qui abbiamo Confido che la vita si prenda cura di me. Oggi è un nuovo giorno. Vivrò moltissime esperienze nuove e meravigliose. Sono amato, sono al sicuro. E così è. In quale carte vi dicono di sentirvi sereni, tranquilli, perché le cose che vi devono arrivare, arriveranno. Ok? Quindi senza ansia, senza panico, ogni cosa a suo tempo arriva. Andiamo a prendere un consiglino per voi. Poi vediamo come vi dovete un po' comportare in questa stesa, per coloro che hanno scelto l'ampolla. Qui, tristezza. Qua le carte vi stanno un po' invitando a non restare in questa condizione di tristezza proprio. Qua qualcuno di voi si è chiuso, si è barricato, vede un sogno, vede un desiderio al di fuori di queste mura, però gli dà le spalle, si gira dall'altra parte e un po' compiange tutti i problemi, rimpiange anche situazioni che non ha vissuto e quant'altro. Le carte vi invitano di eliminare questa situazione. Lasciate andare, vivete, uscite da queste mura e che sia con questa persona o con un'altra, uscite. Non state in questa situazione di tristezza perché non cambia nulla. Veramente le cose arrivano quando devono arrivare. Vediamo i segni zodiacali per voi della variante 1. Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Il segno del toro, lo scorpione, il segno del cancro, pesci, tutti i tre i segni d'acqua e il sagittario. Toro, scorpione, cancro, pesci, quindi tutti i tre i segni d'acqua e il sagittario, segno di fuoco. Va bene, variante numero 1. Io vi ringrazio per aver ascoltato il video, spero che questi interattivi vi piacciano. mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico e mi raccomando commentatemi e raccontatemi le vostre storie perché io leggo sempre, approvo tutti i commenti uno per uno quindi naturalmente leggo tutte le vostre situazioni. Io vi ricordo anche che se mi volete contattare sia per informazioni per i consulti oppure anche per gli abbonamenti perché all'interno del canale sono disponibili gli abbonamenti per coloro che vogliono imparare a leggere i tarocchi, le Lenormand, le Sibille. Ci sono dei piccoli video nella quale vado a spiegare quelli che sono gli abbinamenti magari tra due carte, cinque carte, eccetera. Quindi mi raccomando, vi aspetto, venite a chiedere informazioni. Allora passo adesso alla variante numero 2 quindi metto in disparte questa eccoci qua, quindi per chi ha scelto quest'altra ampollina che vado a mettere qui che dovreste vedere, sì. Allora, variante 2 apriamo le carte, no? Facciamo da sotto come l'altra qui abbiamo delle belle carte Allora, abbiamo una persona che vi sogna proprio siete nei suoi desideri più profondi potrebbe sognarvi nel vero senso della parola quindi effettivamente quando dorme gli apparite in sogno perché qui probabilmente alcuni di voi hanno un rapporto veramente molto, molto con un'alchimia molto, molto forte qua ci sono due anime proprio che si toccano che si sfiorano, c'è empatia il sentirsi anche da distante qui per alcuni di voi potreste anche lavorare insieme con questa persona perché mi parlano di carte che riguardano l'ambiente lavorativo un sogno che magari voi avete anche nell'ambiente lavorativo o questa persona ha nell'ambiente lavorativo attenzione però c'è la costruzione di un amore questa persona sogna con voi di costruire, di lavorare su un sentimento, su un rapporto è una persona che al momento si sente un po' in bilico potrebbe dover prendere una scelta nella sua vita potrebbe avere problemi economici dover risolvere delle questioni importanti per qualcuno di voi è una persona che ha un figlio o dei figli e quindi sta ragionando appunto su come poter risolvere delle questioni perché qua c'è un'instabilità che per alcuni di voi potrebbe trattarsi di questioni economiche almeno l'altra persona sta riflettendo su questo però per altri si potrebbe trattare anche di un nuovo inizio con questa carta del bambino qualcosa che ha bisogno di cure di attenzioni qualcosa di fresco una novità che parte però contestualmente anche qualcosa di immaturo che non è ancora pronto e infatti qua c'è dell'instabilità quindi questa persona è come se avesse qualche perplessità nel andare verso questa situazione nuova perché non sa bene dove andrà a finire cioè è una persona che sogna molto di costruire questo rapporto sogna un amore profondo, importante però teme anche sia uno squilibrio personale sia anche il giudizio di altre persone perché si sente un po' sotto gli occhi di tutti quindi qua potrebbe essere anche una persona che magari ha un lavoro importante o ha un ruolo lavorativo importante conosciuto da tante persone quindi deve magari avere un comportamento un po' esemplare quindi qui c'è proprio anche il desiderio di costruire questo rapporto però per alcuni non escludo che ci sia anche l'ambiente lavorativo in mezzo quindi una sorta di sogno per questa persona completo cioè a pagamento in ambito lavorativo perché ci siete voi però anche in ambito sentimentale perché qua c'è la carta dell'amore allora andiamo a vedere con l'oracola del vorrei dirti che che cosa aggiungono a questa stesa la variante 2 ho paura di soffrire nuovamente eccola qui l'instabilità che questa persona ha paura di andare verso il nuovo non riesco a resisterti la variante 2 cosa ci dici voglio che tu sia solo mia wow questa persona è innamorata vediamo un po' ti desidero sei la persona giusta per me e sul fondo mazzo abbiamo so che ho oltrepassato il limite con te ecco perché questa persona si sente guardata osservata da tutti probabilmente sta facendo un passo più lungo della gamba forse non dovrebbe comportarsi in un determinato modo però qui abbiamo una persona che abbiamo visto ha paura di soffrire nuovamente quindi vediamo che ha un'instabilità nell'andare verso qualcosa di nuovo sebbene lo desideri così tanto però ha paura di perdere l'equilibrio quindi ha paura di star male qui si potrebbe trattare anche di questioni economiche perché questa carta mi parla anche di questo però l'oracolo del vorrei dirti che ci dice proprio che questa paura questa paura sì che ha di perdere l'equilibrio è proprio nel soffrire non riesco a resisterti ti desidero quindi questa persona proprio non vede l'ora di sentarmi addosso di poter costruire effettivamente qualcosa con voi perché pensa che siate la persona giusta e vuole che voi siate solo sua quindi o è una persona che al momento è ancora impegnata ma sta cercando di risolvere dei suoi problemi oppure voi siete impegnate o ha paura che in qualche modo l'attesa che vi sta facendo che vi sta mettendo un po' in crisi sia lui che voi perché questa persona comunque sta riflettendo su questa situazione potrebbe anche essersi un po' allontanato isolato possa in qualche modo indurvi ad andare da un'altra parte andiamo a prendere i messaggi motivazionali per voi della variante 2 ricordo sempre che questi messaggi sono per voi che guardate il video e sono volti a capire se nella vostra vita c'è qualcosa da riparare perché ognuno di noi ha le proprie ferite riguardanti anche relazioni del passato genitori famiglia ex relazioni rapporti che non sono andati come avrebbero dovuto andare e quindi magari ci portiamo appresso delle situazioni che ci feriscono ancora allora c'è una soluzione per ogni problema c'è un potere sempre pronto ad aiutarmi nell'affrontare e superare qualsiasi sfida e crisi della mia vita quindi qua le carte vi dicono che le cose si risolvono quindi calma che non tutto è perduto sono al centro della pace in pace vivo mi muovo e sperimento la vita resto centrato nella pace interiore e trovo la pace anche nel mio mondo esteriore quindi serenità prima di tutto riequilibrio delle energie tranquillità ogni cosa arriva vediamo un consiglio per voi della variante 2 che ci dicono oh allora cosa ci stanno dicendo queste carte attesa aspettate perché i frutti sono ammaturi è giunto il momento di coglierli quindi non dovete far altro che attendere che questa situazione arrivi al compimento cioè maturi maturi la conoscenza maturi il rapporto perché poi si coglieranno dei frutti meravigliosi segni zodiacali per voi allora vediamo un po' cosa abbiamo qui l'ariete segno di fuoco il toro lo scorpione il segno della vergine e il segno dei gemelli quindi ariete toro scorpione vergine e gemelli va bene variante 2 io direi che per questa sera i nostri oracoli ci hanno detto abbastanza io vi invito a contattarmi se volete informazioni per quanto riguarda i consulti o anche gli abbonamenti del canale e lo potete fare via mail oppure via whatsapp e trovate tutto sotto nella descrizione del video mi raccomando whatsapp solo messaggi scritti per cortesia perché purtroppo non riesco ad ascoltarli a volte mi mandate dei messaggi vocali di 15 minuti e purtroppo non mi è proprio possibile ascoltarli quindi mi raccomando scritti allora io vi ringrazio ancora mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e naturalmente commentatemi e ditemi se le stese risuonano con voi io vi mando un abbracione grossissimo vi auguro una buona notte e vi aspetto domani ciao a tutti